Noi per la salute, Assemblea cittadina alla Casa delle Culture e del Volontariato di Caltanissetta. Commozione in città per la morte di Francesca Mugavero, 45 anni, conosciuta e apprezzata per la sua attività lavorativa in uno studio dentistico. Domani alle 15.30 i funerali a San Paolo. Elezione amministrativa in cinque centri del Nisseno si voterà a maggio. Alle urne i cittadini di Delia, Milena, Montedoro, Riesi e Sutera. Consiglio comunale monotematico sugli eventi natalizi. Ben trovati studio con l'edizione di oggi del telegiornale. Apriamo parlando dell'Assemblea cittadina dell'Associazione Noi per la Salute alla Casa delle Culture e del Volontariato di Caltanissetta. Ieri pomeriggio alla Casa delle Culture e del Volontariato si è tenuta l'Assemblea cittadina organizzata dall'Associazione di Promozione Sociale Noi per la Salute Tina Anselmi. Durante l'Assemblea, dove erano presenti diverse associazioni che agiscono sul territorio nisseno, il Presidente Giuseppe Pastorello insieme agli altri componenti dell'Associazione hanno discusso sull'incontro avuto con l'Assessore regionale alla Sanità Giovanna Volo e sulla presentazione del programma di lavoro che l'Associazione intende svolgere nel corrente anno. Non è solo un'occasione per fare dei bilanci, è anche un'occasione per stabilire delle sinergie con le altre associazioni operanti sul territorio, con le quali noi contiamo di poter organizzare un'azione che sia incisiva in termini di informazione ai cittadini relativamente ai loro diritti e ai servizi che i cittadini possono e devono ricevere dal sistema sanitario in questo territorio. In questo periodo noi abbiamo anche operato una ricerca di collaborazione e di informazione con le istituzioni comunali. Quindi abbiamo incontrato il Sindaco di San Cataldo, il Sindaco di Mussomeli, abbiamo in animo di incontrare anche altri sindaci del territorio. E questo anche in vista dell'organizzazione del tutto nuova dal punto di vista dell'offerta sanitaria relativamente alle case di comunità e gli ospedali di comunità che vedranno protagonisti i territori e quindi anche i sindaci. L'associazione, come ricordo, è un'associazione che mira a mettere sul campo tutte iniziative che regolamentino un po' la sanità nel nostro territorio, nella nostra provincia. Nel senso che noi vogliamo dare un contributo sostanziale alla soluzione dei problemi che ci sono nella nostra provincia. Parlo di liste di attesa, parlo di pronto soccorso, parlo di carenza di organico a livello aziendale, quindi dell'ospedale, degli ospedali in generale. Parlo anche del coinvolgimento di tutti i sindaci della provincia di Caltanissetta, delle istituzioni di Sua Eccellenza il Prefetto e delle istituzioni che sono naturalmente interessate al bene comune di questa provincia. Commozione in città per la morte di Francesca Mugavero, 45 anni, conosciuta e apprezzata per la sua attività lavorativa in uno studio dentistico. Domani alle 15.30 i funerali a San Paolo. Commozione in città per la scombarsa di Francesca Mugavero, la giovane mamma di 45 anni, strongata da un aneurisma cerebrale. Da alcune settimane lamentava forti mal di testa e lo scorso fine settimana si era sentita male e aveva perso i sensi mentre si trovava a casa. Di corsa era stata portata in ambulanza all'ospedale, dove fin da subito si era evidenziata la criticità dell'emorragia provocata dall'aneurisma. Il personale sanitario ha attendato l'impossibile e nel tardo pomeriggio di ieri è stata dichiarata la morte. Una tragedia che ha scosso la comunità nissena, dove da giorni, anche sui social, si erano stretti intorno a lei. Francesca, conosciuta e apprezzata per la sua attività lavorativa in uno studio dentistico, lascia i suoi due piccoli figli. I funerali verranno celebrati domani a San Paolo alle ore 15.30. E adesso parliamo di elezioni amministrative in cinque centri del Nisseno. Si voterà a maggio alle urne i cittadini di Delia, Milena, Montedoro, Riesi e Sutera. È tempo di elezioni amministrative in Sicilia con il governo Schifani che ha fissato le date per le urne di 129 comuni. L'esecutivo guidato da Renato Schifani, insieme alla sua giunta, ha fissato le date delle prossime elezioni amministrative nell'isola. Nei 129 comuni coinvolti si andrà al voto domenica 28 maggio, dalle ore 7 alle 23. È lunedì 29, dalle 7 alle 15, con eventuale turno di ballottaggio nei giorni 11 e 12 giugno. Le date sono state individuate su proposta dell'assessore all'autonomia locale Andrea Messina. La tornata elettorale coinvolgerà quattro capolori di provincia, Catania, Ragusa, Siracusa e Trapani. Dei 129 comuni saranno 114 quelli nei quali si voterà con il sistema maggioritario, perché al di sotto dei 15.000 abitanti, mentre sono 15 quelli al di sopra di questa soglia nei quali si voterà con il proporzionale. Inoltre i 5 comuni sono attualmente gestiti da commissari straordinari di nomina regionale, mentre uno, quello di Barrafranca nell'Ennese, è amministrato da una commissione prefettizia perché sciolto per mafia. Si tratta di una tornata elettorale molto importante per i 129 comuni solani, ha dichiarato l'assessore regionale Andrea Messina. I cittadini chiamati alle urne saranno infatti un terzo della popolazione siciliana. Questa volta le giornate in cui si voterà saranno due, per via del ricepimento della normativa nazionale. La scelta è ricaduta sul 28 e il 29 maggio, perché da un lato abbiamo voluto tener conto del calendario scolastico, senza quindi penalizzare eccessivamente l'attività didattica, e dall'altro abbiamo evitato di sovrapporre la tornata elettorale a celebrazioni nazionali e religiose. In provincia di Caltanissetta si voterà in 5 comuni, tutti al di sotto dei 15.000 abitanti, Delia, Milena, Montedoro, Riesi e Sutera. Nell'Agrigentino si rinnoveranno le amministrazioni di 14 comuni, fra le quali Ricata, Menfi, Ravanusa, Sambuca di Sicilia e San Giovanni Gemini. Complessivamente sono 19 comuni della provincia di Catania, nei quali si andrà al voto, incluso il capoluogo. Nell'Ennese sono 9, in provincia di Messina 33, mentre nel Palermitano si voterà in 25 comuni, tutti al di sotto dei 15.000 abitanti. In provincia di Ragusa si voterà in 4 comuni, compreso il capoluogo, mentre nel Siracusano la tornata elettorale coinvolgerà 8 comuni insieme al capoluogo. Infine, nel Trapanese si andrà al voto in 12 comuni. E cambiamo argomento. Dal 23 al 29 gennaio si è registrato in Sicilia un netto calo delle nuove infezioni da Covid. Sentiamo. Continua a migliorare la situazione per quanto riguarda la presenza del coronavirus in Sicilia. Nella settimana dal 23 gennaio al 29 si è registrato nell'isolo un netto calo delle nuove infezioni, in linea con la tendenza nel territorio nazionale. La percentuale di positive è in calo del 36,28%, con un parametro di 64 casi ogni 100.000 abitanti. Il tasso di nuovi positivi più alto in Sicilia si è registrato nelle province di Palermo, Siracusa e Agrigento. Le fasce di età maggiormente a rischio, secondo l'ultimo bollettino settimanale a cura dell'assessorato della salute della regione siciliana, rimangono sempre quelle tra i 70 e i 90 anni. In base a quanto riportato nel documento, le nuove ospedalizzazioni sono in lieve diminuzione. Nella stessa settimana, più della metà dei pazienti positivi in ospedale è risultata non vaccinata. L'epidemia rimane in una fase delicata, con un livello ancora significativo di diffusione virale, ma con una ricaduta sulle nuove ospedalizzazioni più contenute rispetto ai periodi precedenti. Per quanto riguarda la campagna vaccinale in Sicilia, i dati aggiornati al 31 gennaio ci dicono che i bambini vaccinati con almeno una dose sono il 23,79%, mentre sono il 20,45% quelli vaccinati con ciclo primario completato. Le persone che hanno completato il ciclo primario sono l'89,59%. I vaccinati con la dose bussere sono il 72,39% degli aventi diritto. In Sicilia, infine, sono state effettuate complessivamente 239.045 somministrazioni di quarta dose, di cui 210.537 a soggetti over 60. Le quinte dosi somministrate risultano complessivamente 8.576. Solo l'intervento della Regione può garantire le 36 ore a tutto il personale dell'ASP di Caltanissette e necessario aggiornare la pianta organica alle reali e attuali esigenze dell'azienda. E' quanto fa sapere in una nota il sindacato Nursind, che chiama in causa l'assessorato regionale della salute per dirimere la questione del personale sanitario in provincia. Si chiede il potenziamento del personale secondo le reali esigenze dell'azienda. Il Nursind spiega inoltre che, in merito al fabbisogno aziendale 2021-2023, la riserva all'esterno del 50% dei posti nell'ambito delle procedure di stabilizzazione è prevista dalla normativa vigente. E adesso parliamo del Consiglio Comunale Nisseno, monotematico, sugli eventi natalizi. Ieri, nel tardo pomeriggio, si è tenuto un Consiglio Comunale monotematico, dove si è discusso dell'organizzazione e programmazione degli eventi natalizi. E' stato anche il primo Consiglio Comunale passato all'opposizione per i due ex pentastellati Nina Schirmenti e Marco Matta, che in settimana sono transitati al gruppo misto. Adesso la maggioranza conta 10 unità, mentre l'opposizione sembra essere diventata la nuova maggioranza, dove si vantano ben 14 unità. Sotto la lente di ingrandimento, i due assessori Grazia Gianmusso e Fabio Caracausi, che prima hanno ascoltato i vari capigruppo dell'opposizione, che lamentavano il non riuscito evento natalizio, e dopo hanno replicato. Da segnalare l'intervento del Consigliere di Fratelli d'Italia Gianluca Bruzzaniti, che lamentava l'esiguo costo degli eventi natalizi, che ammonterebbe a 100.000 euro circa. Tregua fiscale introdotta dalla manovra di bilancio 2023, l'interrogazione dei consiglieri Bruzzaniti e Petrantoni. I consiglieri comunali di Caltanissetta, Toti Petrantoni e Gianluca Bruzzaniti, hanno presentato un'interrogazione sulla tregua fiscale introdotta dalla manovra di bilancio 2023. I rappresentanti di Fratelli d'Italia nel Consiglio Comunale Nisseno chiedono che si renda noto ai cittadini la posizione dell'amministrazione comunale sulla sanatoria inserita nella legge di bilancio 2023, riguardante le cartelle di Imo e Tari emesse fra il 2010 e il 2015. La legge prevede che entro il 31 gennaio i comuni italiani, tramite un'apposita delibera, decidano se accettare, anche in forma parziale, la sanatoria prevista. In mancanza dell'apposita delibera si applica comunque lo stralcio di sanzioni e interessi, a meno che l'amministrazione comunale dichiari il contrario come fatto da alcuni comuni d'Italia. Inoltre i consiglieri comunali chiedono che venga pubblicizzata attraverso i canali istituzionali l'eventuale possibilità per i cittadini di attuare la pacificazione tributaria con l'ente comunale. La legge di bilancio 2023 ha infatti introdotto una serie di strumenti volti a ridurre, da un lato il contenzioso tributario in tutti i gradi di giudizio e dall'altro il magazzino dei carichi affidati all'agente della riscossione, mediante lo stralcio dei carichi fino a 1.000 euro inclusi nelle cartelle 2000-2015, nonché attraverso la possibilità di definizione parziale di tutti i carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo 1 gennaio 2030-giugno 2022, per le quali non si sia già provveduto al pagamento tramite la riscossione ordinaria. Possono accedere al beneficio anche coloro che richiedono la rateizzazione del proprio debito superiore a 2.000 euro per anno di imbosta maturato nel periodo 2016-2019. Un canale di pagamento apposito è stato attivato dalla Regione presso la delegazione ACI e le agenzie di pratica auto autorizzate alle nuove province siciliane. Per aderire alla regolarizzazione stracciabollo, il contribuente senza necessità di istanza dovrà infatti effettuare entro il 28 febbraio 2023 il pagamento esclusivamente presso tali sedi, specificando la targa del veicolo e l'anno di imposta che intende regolarizzare. Novità per il bando bonus energia destinato alle imprese agricole di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli della Regione. Il bando garantisce aiuti temporanei e eccezionali per il caro energia alle aziende particolarmente colpite dalla crisi del conflitto russo-ucraino. A seguito della forte domanda commerciale e dell'aumento dei prezzi dell'energia che hanno portato ad un aumento dei costi di trasporto, nell'ambito degli aventi diritto al bonus, il Dipartimento regionale dell'Agricoltura ha introdotto una terza linea C che ammette la partecipazione delle imprese agricole attive nella produzione primaria che nell'anno solare 2021-2022 abbiano sostenuto costi per l'energia elettrica e il gas. Domande entro il 28 febbraio. Tasse straccia a bollo in vigore fino al 28 febbraio. Il Presidente della Regione Schifani e l'Assessore regionale Falcone misura gradita dai contribuenti. A Montedoro domani appuntamento all'Osservatorio Astronomico per ammirare la cometa di Neandertal. L'Osservatorio Astronomico di Montedoro si prepara ad accogliere numerosi visitatori venerdì 3 febbraio a partire dalle ore 19. La struttura infatti accoglierà gli appassionati di astri ma anche tutti quei cittadini incuriositi dalla possibilità di conoscere meglio e osservare la cometa soprannominata di Neandertal che proprio in questi primi giorni di febbraio raggiunge il punto più vicino alla Terra. L'ultima volta che questo avvenne fu circa 50.000 anni fa quando sulla Terra viveva proprio l'uomo di Neandertal da cui la cometa prende il nome. In realtà il vero nome della cometa è C2022E3ZTF. Questa cifra, questo codice si riferisce alla data in cui la cometa è stata scoperta, all'ente che ha scoperto la cometa e alla durata della vita della cometa. Di tutto questo sicuramente parleremo meglio giorno 3 febbraio all'interno del planetario. Infatti la nostra associazione, l'associazione Stargeo, gestisce anche il planetario, una grossa cupola in cui all'interno è possibile andare a fare dei viaggi sia nel tempo che nello spazio e dunque rappresenta il nostro centro di studio astronomico. Dopo essere usciti dal planetario ci dirigeremo qui all'osservatorio per andare a osservare la cometa, ma soprattutto per osservare la bellezza della sua scia, della sua coda. Infatti la cometa, in particolare i materiali che compongono la cometa, non appena si avvicinano al sole, quindi al calore che produce il sole, si sublimano, cioè passano immediatamente dallo stato solido allo stato gassoso, producendo appunto quella che è la scia della cometa. Parliamo adesso di un'altra proposta progettuale tra le più votate nell'ambito del bilancio partecipativo 2022. Dal titolo Senza confini riprendiamo a giocare. Senza confini riprendiamo a giocare. Questo è il titolo di una delle cinque proposte progettuali più votate dai cittadini nell'ambito del bilancio partecipativo 2022. Il progetto, presentato dall'SD Polisportiva Nissena, rientra nell'area tematica sport, proponendo infatti attraverso un'idea inclusiva alla possibilità di far svolgere l'attività di calcio giovanile ai ragazzi dai 6 ai 17 anni. Questo progetto permetterà la partecipazione di una cinquantina di giovani, 56, stando alla proposta consultabile attraverso il sito del Comune Nisseno e prevede diverse fasi da sviluppare nel corso di sei mesi. Sicuramente un ringraziamento particolare principalmente a tutti coloro che hanno creduto nel progetto. è un progetto che è rivolto a soggetti fragili, a soggetti adolescenti e bambini da integrare nel tessuto sportivo, in questo caso nell'attività calcio. Ci occuperemo di fare in modo che questi bambini poi possano interagire e integrarsi con le realtà sportive che già esistono e che sono operanti nel territorio. Il titolo del progetto è senza confini riprendiamo a giocare appunto perché non dobbiamo creare confini, non dobbiamo schematizzare e quindi rivolgere l'attività soltanto a chi si può permettere di fare attività sportiva, in questo caso il calcio, ma anche a bambini che si trovano in difficoltà, che si trovano in associazioni oppure anche ai ragazzi e bambini extracomunitari e quindi farli integrare con gli altri bambini, con gli altri ragazzi delle società sportive. Aspetteremo che l'amministrazione comunale e gli uffici ci comunicheranno l'inizio dell'attività, attività che verrà svolta in una struttura che già è operativa e quindi ha tre campi di calcio in erba sintetica, i bambini verranno suddivisi per fasce d'età omogenee, svolgeranno un'attività due volte alla settimana per un'ora e mezza al giorno, quindi tre ore settimanali di attività. Poi successivamente quando l'amministrazione ci darà il via, sarà compito nostro, insomma, delle associazioni, far coinvolgere, veicolare la possibilità di partecipare al progetto. Nell'ambito del progetto nazionale di educazione e la legalità ambientale, un albero per il futuro è Albero Falcone, promosso dal Ministero della Transizione Ecologica e fortemente voluto dalla Fondazione Falcone e dall'Arma dei Carabinieri, prosegue la distribuzione nella provincia di Caltanissetta delle talee dell'Albero Falcone e delle piante richieste dagli istituti scolastici. I Carabinieri del Centro Anticrimine Natura di Agrigento e dell'Arma Territoriale ieri mattina hanno effettuato la consegna presso l'Istituto Comprensivo Salvatore Quasimodo, con la dirigente Viviana Morello, e l'Istituto Tecnico Industriale Morselli, dirigente Serafina Ciotta di Gela. Le piccole piante donate alle scuole italiane hanno lo scopo di formare il grande bosco diffuso, si legge in una nota, visibile su una apposita piattaforma web che monitorerà la crescita e lo stoccaggio del CO2. Un progetto ambizioso dei Carabinieri per combattere i crimini ambientali con l'Arma dell'Educazione alla Legalità Ambientale e con il coinvolgimento delle scuole per il raggiungimento di questo obiettivo. Ci spostiamo a San Cataldo, l'appello del Sindaco Gioacchino Comparato per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti. Fa un appello alla cittadinanza chiedendo collaborazione il primo cittadino sancataldese Gioacchino Comparato per far sì che la città possa rimanere pulita. Nei giorni scorsi infatti attraverso i social aveva anche raccontato dei sopralluoghi effettuati insieme all'assessore all'ambiente Michele Giorratano e alla consigliera comunale Francesca Cammarata in alcune zone periferiche in cui erano presenti i rifiuti abbandonati per le strade. Noi non avremo più alcuna tolleranza, scrive infatti nel posto lo stesso sindaco. Il compito dell'amministrazione è quello di tenere la città pulita, su questo non c'è dubbio, ci lavoriamo giornalmente e giornalmente vogliamo svolgere al meglio i nostri compiti, però è evidente che cerchiamo la collaborazione di tutti i cittadini, perché poi quando si assiste a quello a cui assistiamo in alcune zone della città, per esempio via Mimiani è la parte che poi porta verso Melenopoli, verso Caltanissetta, verso le campagne e vediamo tanti rifiuti abbandonati, è evidente che quello non solo è un segno di inciviltà ma è anche un costo ulteriore per il comune che deve provvedere a smaltire quei rifiuti, per cui chiediamo la collaborazione dei cittadini e oltre alla collaborazione è evidente tolleranza zero per chi abbandona i rifiuti per strada. Nel 2023 non è più concepibile. L'amministrazione sta intervenendo sia ripulendo le aree interessate che attraverso l'installazione di telecamere e non solo. Noi abbiamo provveduto a ripulire tutte le zone periferiche della città dove c'erano delle micro discariche, non solo nella parte bassa, quindi nella parte della zona Mimiani, quindi quartiere Mimiani, ma anche nella zona alta di San Cataldo per andare verso Serra di Falco. Chiaramente a nostre spese abbiamo ripulito tutto quanto e speriamo e compidiamo nei cittadini tutti e nella buona riuscita di questa raccolta differenziata. Noi per poter ovviare a questo inconveniente stiamo mettendo delle fototrappole o delle videocamere dove è possibile metterle. Nel frattempo l'assessore ricorda che è possibile conferire i propri rifiuti al centro comunale di raccolta. Il CCR è aperto tutti i giorni, anzi addirittura il sabato è aperto mattina e pomeriggio, quindi non capiamo il perché di questo malessere che c'è all'interno della città. Il problema non si verificherebbe invece nelle strade interne del centro abitato. Tranne qualcosa sparuta così, ma poi non c'è niente di strano e niente di anormale per quanto riguarda la raccolta differenziata. Anzi devo dire che i cittadini si stanno un po' abituando alla raccolta differenziata. Certo ancora ce ne vuole di strada, abbiamo raggiunto il 70% quest'anno e continueremo su questa strada per poter raggiungere anche obiettivi superiori a quello che abbiamo raggiunto quest'anno. E adesso parliamo del carnevale e soprattutto dei suoi sapori, la tradizione nissena dalla pignolata alle sfinci. A Caltanissette i sapori del carnevale rendono regina la golosità dei nisseni che non si nutrono di sole e chiacchiere come il resto d'Italia, ma che le impreziosiscono anche con una goccia di marsala. Nell'impasto, che siano fritte o al forno che siano ricoperte di candido zucchero a velo o a miele, una cosa è certa, mettono d'accordo tutti, grandi e peccini. Il nisseno secondo me è un tradizionalista per natura, quindi il dolce che preferisce per il carnevale è la raviola, la classica raviola nissena. Tra i dolci che i nisseni hanno acquistato maggiormente nel periodo del carnevale ci sono appunto le sfingi all'uovo, ma soprattutto quelle di pane, per cui l'impasto non più realizzato solo con farina e uova, ma con farina, lievito, acqua, eccetera. Insomma quelle chiamate anche caserecce. Naturalmente non solo i nisseni lo hanno fatto, ma anche i nisseni all'estero, tant'è che oggi anche attraverso l'e-commerce le ordinano e se le fanno spedire proprio perché non possono farne a meno. Quindi via libera, appignolata farcita con miele, confettini colorati, sfinci semplici o farcite di creme, raviole. E per chi ama mettere le mani in pasta, questo è il consiglio. Il segreto per prepararle in casa, qualora vogliate cimentarvi un po', è di sicuro una frittura fatta bene. Prescindendo dagli ingredienti, dalle materie prime che devono essere di altissima qualità, l'olio preferibilmente deve essere alto oleico, per cui con un punto di fumo basso a 180 gradi, quindi una temperatura alta, in modo tale che il prodotto non abbia troppo assorbimento di olio. Il segreto secondo me sta sempre nella cottura principalmente, ma poi anche nello spessore, perché una chiacchiera più friabile la vuoi, più croccante la vuoi, più sottile la devi fare. Bene, anche per oggi dunque è tutto, non ci sono ulteriori aggiornamenti, ci rivediamo nelle prossime edizioni del telegiornale. Intanto vi lascio al metto le notizie di pubblica utilità e come sempre grazie per averci seguito. Bentrovati a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì, quando possiamo notare da questa immagine delle pressioni a livello europeo come l'Italia sarà terra di mezzo tra l'alta pressione azzorriana e correnti più fredde in discesa dalla Scandinavia verso tutta l'Europa orientale. La nuvolosità ci conferma una giornata di bel tempo sulle nostre regioni, a parte un fronte nuvoloso che si addosserà alle Alpi più settentrionali del nord-est. In sintesi quindi una giornata che sarà di cieli sereni o poco nuvolosi dappertutto, quel fronte nuvoloso è sull'Alto Adige con dei fiocchi di neve in quota e poi dal pomeriggio un po' di nubi basse anche tra Levante Ligure e Toscana ma senza precipitazioni. Gli ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.